e buongiorno allora faccio questo video per testare questo sacco a pelo che prima ad acquistarlo ho provato a guardare su youtube se ci fosse qualcuno che lo commentasse ma non ho trovato nessuno devo dire che un saccappello matrimoniale ci sono inclusi due cuscinetti piccolini l'ho testato a lago di molveno ultima volta che ho guardato la gradi all'interno della macchina eravamo due gradi dormivamo in due perché un saccappello matrimoniale diciamo che ci manteneva abbastanza calmi ovviamente ho associato a saccappello la passamontagna perché non è che ti copre la testa la testa questa non la copre quindi associando le passamontagna e questo saccappello diciamo che ha avuto buoni risultati ci sono all'interno due cuscinetti inclusi non so se l'ho detto prima però due cuscinetti piccoli più o meno così quindi non sono in massimo noi portiamo comunque i nostri cuscini da casa per dormire comodi ecco questo penso di avere detto tutto commento positivo ho stato contento la cifra non è non è tanto 49 euro o 50 se non vorrei spero non sbagliarmi comunque devo dire che è un buon saccappello eventualmente vi posto il link sul commento del video che metterò su youtube essendo che non ho trovato nessuno che lo commentasse per magari se l'ho cercato uguale preciso magari trovate molto più facilmente ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.